Ciao a tutti, questo è il Postle 2 Win, il tradizionale, nella versione Plus. Questo veicolo ha una caratteristica che ha solo lui, dal punto di vista di Vano. Che è quello di poter impilare tutti quelli che sono i materassi e quelle che sono le reti, in modo tale da avere un gavone veramente ampio. Vi voglio far vedere come si fa perché è veramente veloce. Allora, prendo un materasso, lo metto, è sagomato ovviamente, lo impilo, prendo la doga, anche questa è sagomata e la impilo nella giusta posizione. Prendo il secondo materasso, anche questo è sagomato e lo metto sempre in questa posizione e per ultimo prendo la doga, l'ultima doga, anche questa è sagomata. La metto nella sua posizione e qui è tutto quanto riposto nel vano dedicato al gavone e alle bombole del gas. Se ho bisogno di avere uno spazio più lungo, grazie a questo asse, che poi ripongo, grazie a quest'altro asse che fa da ferma carico e da gradino, da comodo gradino quando devo andare a letto, in questo modo non mi faccio male ai piedi, lo tolgo, impilo anche questo nella giusta posizione e posso bloccare comodamente le cinghie con le cinghie che sono date di corredo. Fermo ovviamente anche questo perché non voglio che cadendo mi possa danneggiare e qui ho un vano di carico lungo diversi metri che arriva fino alla cabina di guida. In questo modo posso anche accedere agevolmente a questo gavone che prima magari rimaneva un pochettino nascosto da quello che era la protezione davanti o la doga di sopra. Questo è accessibile anche da questa parte. E questo è il gran volume che salta fuori nel 2Win Plus tradizionale. Non è un'opzione, non costa niente di più, è proprio di data su questo veicolo. Ciao a tutti!